Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare con il contenuto vero e proprio di questo video, volevo fare una premessa, con l'intento di lanciare un monito, un avvertimento a tutti voi. Purtroppo, in quest'ultimo periodo, stanno venendo a galla molti scam, pseudo-scam, ovvero progetti con a capo persone poco raccomandabili, e la mia chiaramente è una generalizzazione. Tutto ciò, per quanto possa sembrare assurdo, è del tutto normale. Ricordatevi che è nelle fasi di BR Market, di scarso interesse, che i protocolli, gli exchange, o quel che sia, tendono a scammare, e non nelle fasi di Bull Market, nelle quali ci possono ancora guadagnare e lucrare. Perciò, in questi primi mesi di BR Market, cercate di prestare la massima attenzione, di non assumervi rischi inutili, e di aspettare che il mercato depuri, pulisca, di tutto il marcio che si è accumulato in questi anni di Bull Market. Il mio intento, per l'appunto, era unicamente avvertirvi di prestare la massima attenzione, perché queste cose succedono soprattutto in queste fasi. Fatta questa premessa, arriviamo finalmente a parlare del contenuto di questo video. Alla base di questi errori, come nell'investire in un progetto con dei fondamentali poco validi, c'è un processo decisionale, un processo decisionale che ci porta a compiere una scelta. Ebbene, il nostro processo decisionale è imperfetto, poiché inconsciamente ci porta a compiere delle azioni, a prendere delle scelte, che non sono del tutto razionali, quindi ha dei difetti, delle distorsioni, o meglio, delle distorsioni cognitive. Ebbene, ragazzi, nel video di oggi andremo a capo di tutto questo, e cercheremo insieme di estirpare il progetto alla radice. E tutto ciò grazie unicamente alla conoscenza. Unica premessa, ragazzi, ci tengo davvero tanto che voi vediate questo video fino alla fine, e vi dirò anche il perché. Non mi interessa che lo ascoltiate soltanto o che lo vediate. L'importante è che voi veniate a conoscenza dell'esistenza di questi errori, proprio perché la migliore arma a nostra disposizione per evitare di commettere questi errori in futuro è proprio la conoscenza dell'esistenza di questi ultimi, e vedrete che in molti di questi vi ci ritroverete. I 12 errori più gravi che mi hanno e ci fanno perdere soldi. Parleremo appunto di errori cognitivi, bias, stereotipi, che ahimè nelle cripto ce ne sono veramente tanti, euristiche e rumori, e chiaramente vedremo anche come evitare di commetterli. Il primo errore, che è quello più comune che si tende a fare all'inizio, l'ho definito l'errore da shitcoiner neofita, e consiste nel preferire l'acquisto di un'unità intera a discapito della frazione di un token. Ad esempio, Bitcoin è troppo costoso. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Preferisco acquistare Shiba Inu perché costa poco, quindi è più economico. E soprattutto perché ne acquisto tanti, quindi ha un maggiore impatto psicologico su di noi. Inoltre, se dovesse arrivare a un dollaro, mi compro l'America. Ora, i consigli sono semplicemente due. Non sopravvalutare il valore di un token perché è economico. Il fatto che valga pochi centesimi, non significa che possa arrivare a valere decine di dollari. Ad esempio, Shiba Inu a un dollaro capitalizzerebbe oltre 550 miliardi. È possibile? Certo che è possibile. È realmente realizzabile? Beh, avrei assolutamente i miei dubbi. Quindi impara a comprendere il rapporto tra la market cap ed il circolante. Biass di ancoraggio. Per chi non sapesse cos'è un bias, ragazzi, anche se ne abbiamo parlato varie volte nel canale, sono delle distorsioni cognitive che le persone attuano nella valutazione di fatti e avvenimenti. Quindi rappresentano il modo in cui il nostro cervello distorce la realtà. Quindi il bias di ancoraggio consiste nell'ancorarsi eccessivamente alle prime informazioni che si ricevono. Ad esempio, hai sentito parlare di bitcoin quando valeva 6.000 euro e non l'hai acquistato. Dopo un paio di mesi arriva a 11.000 euro e non lo vuoi comunque più comprare. Perché pensi che rispetto alle prime informazioni alle quali ti sei ancorato, quindi 6.000 euro, costa troppo e fu così magari che arrivò a 60.000 euro. Quindi valuta un asset in base al suo potenziale e non al suo passato e chiaramente, come per ogni cosa, siate consapevoli dell'esistenza di questo bias. Ad esempio, in questa immagine vediamo come l'omino predilige la tazza di destra pur essendo uguale e identica a quella di sinistra perché si ancora, in un certo senso, al prezzo di 1.000 dollari, quindi da 1.000 dollari scontata a 300 e pensa che sia per l'appunto un enorme affare. Addirittura, il prezzo della tazza di destra sarebbe stato anche più alto rispetto a quella di sinistra e in ogni caso l'omino avrebbe il prediletto, diciamo, quella di destra. Bias di conferma, questi sono bias molto conosciuti, consiste nel ricercare unicamente le informazioni che confermino la tua tesi. Questo è molto, molto comune anche nel settore cripto, ma nell'investimento in generale. Ciò ti porta a seguire soltanto le figure, le analisi, che siano d'accordo con il tuo pensiero e che siano magari rialziste sulla coin che detieni, trascurando chiunque non sia d'accordo con il tuo pensiero. Ad esempio, io sono prettamente bullish, andrò a ricercare informazioni, analisi che siano altrettanto bullish e trascurerò quelle bearish. Di conseguenza, viceversa, le persone che sono prettamente bearish andranno a fare la medesima cosa. Ora, i consigli. Quando investi, cerca di assumere un atteggiamento neutrale. Questo lo ripeto sempre. Sì, il più oggettivo e pragmatico possibile. Cerca chi ha una visione contrastante alla tua e valuta se è valida. Quindi, considera sempre ambo i lati della medaglia. Ad esempio, in questa immagine abbiamo la sfera delle cose in cui crediamo, che sono le cose che vanno messe in discussione, e poi l'evidenza dei fatti, e noi ci troviamo proprio qui di mezzo, negli elementi sopravvalutati. Fallacia del costo irrecuperabile. Ragazzi, fate molta attenzione a questo, perché vedrete che in moltissimi di voi si saranno già ritrovati in una situazione molto simile. La fallacia del costo irrecuperabile è il fenomeno per cui molte persone che hanno investito tempo, soldi o emozioni in qualcosa, quando poste di fronte all'evidenza che essa, ad esempio, del proprio investimento non è più una cosa positiva o la cui efficacia viene a mancare, si rifiutano di accettarlo, perché vorrebbe dire accettare di aver perso definitivamente soldi e tempo in maniera irrecuperabile. e la cosa, chiaramente, avrebbe un costo emotivo insostenibile. Ad esempio, hai impiegato 10.000 euro per comprare una shitcoin. Dopo alcune settimane, il token perde il 70% e ti rimane ancora un 30%, il quale, tecnicamente, potresti impiegarlo in qualche altra coin, ma non lo fai, perché non vuoi vendere in perdita nella disperata speranza di recuperare quel 70%. E' chiaro che in questo esempio abbiamo preso in considerazione una shitcoin. E non a caso, se ad esempio dovessimo prendere come esempio Bitcoin, sarei io, innanzitutto, il primo ad oldare e a mediare il prezzo al ribasso, perché, credendo nel settore, credendo in Bitcoin, e avendo una visione di lungo periodo, non mi interessa della perdita del 70%, perché sono convinto, sicuro, per quanto si possa chiaramente essere sicuri, nella finanza, che nel futuro andrò a recuperare quel 70%. Il problema qua è sulle altcoin e sulle shitcoin, perché oldare una shitcoin, soprattutto, o comunque una altcoin di bassa classifica, soprattutto ad esempio in un periodo di bear market, può essere realmente un suicidio, ragazzi, perché può perdere anche più del 90%, e potenzialmente nel prossimo ciclo non andarlo più a recuperare, magari perché il progetto muore. Quindi è chiaro che ci sono diverse variabili, questo discorso è valido soprattutto sulle altcoin, e in particolar modo sulle shitcoin. Anche in questo caso, ragazzi, i consigli sono semplicemente due. Quando ci addentriamo in avventure finanziarie, progetti, relazioni o altro, e ci accorgiamo che le cose non stanno andando come dovrebbero, prendiamoci un attimo di tempo per riflettere sui costi e sui reali benefici futuri, piuttosto che focalizzarci solo sugli investimenti del passato. Potrebbe essere meglio investire quel 30% su un progetto più valido che sperare di recuperare quel 70%. Questo è un altro concetto importante, perché non dovete necessariamente recuperare quel 70% su quella determinata coin, lo potreste tranquillamente recuperare su un'altra tipologia di coin, magari una coin che in quel momento è in trend o che comunque ha un valore maggiore rispetto a quella, ad esempio, se parliamo soprattutto di una shitcoin. Ad esempio, ragazzi, questa immagine è molto rappresentativa, in un certo senso, di questo concetto, dove c'è la ragazza che dice andiamocene da qui perché questo è il film più brutto che abbia mai visto, mentre il ragazzo gli dice che preferirebbe rimanere a guardare il film perché quei biglietti gli sono costati una gamba e un braccio, quindi praticamente si rifiuta ad abbandonare qualcosa di poco gratificante perché ci ha già investito, quindi questa è la fallagia del costo irrecuperabile. L'avversione alla perdita, questo è famosissimo. L'avversione alla perdita è l'effetto psicologico ed economico che ci porta ad attribuire un peso maggiore alle perdite piuttosto che ai guadagni. Il fastidio di perdere 100 euro è generalmente molto più intenso della gioia di vincere lo stesso importo, seppur razionalmente la stessa cosa, vincere 100 euro e perderne 100, tecnicamente la stessa cosa, ma non per il suo impatto psicologico. Alcuni studi dimostrano di fatti che una perdita pesa 2,5 volte più di un guadagno dello stesso importo. Ad esempio, ad esempio, il tuo trade è in perdita del 50% e sono in arrivo magari altre notizie negative. Potresti chiudere il trade e ridurre la perdita, ma l'avversione alla perdita ti spinge a non vendere le tue posizioni e di aspettare per paura di perdere soldi, anche se vendere sarebbe la cosa più giusta secondo le tue stesse analisi. Ora, diciamo, il consiglio è che bisogna avere la consapevolezza dell'esistenza di questo bias e quindi pesare correttamente i rischi e i guadagni. Ho aggiunto anche un bonus perché spesso l'avversione alla perdita ha un effetto secondario molto comune che porta quasi a non volersi più assumere dei rischi. Ad esempio, ho comprato bitcoin a 16.000 euro nel 2017, di colpo la bolla è scoppiata e ho perso oltre l'80% del mio investimento. E ora queste persone tendono a dire non voglio più avere a che fare con le cripto, sono una truffa, ti fanno soltanto perdere soldi, eccetera, eccetera. Quindi l'avversione alla perdita ti porta addirittura a denigrare il settore perdendo, ahimè, così di fatto una delle loro più grandi opportunità. Recency bias. Ragazzi, adesso iniziano quelli molto più particolari e delicati ma anche molto più belli. Allora, il recency bias o la distorsione di recente, dovrebbe essere questa la traduzione, è per l'appunto una distorsione cognitiva che favorisce gli eventi recenti rispetto a quelli storici. Questo tipo di bias può portarti, portarci a prendere decisioni irrazionali come comprare un token in piena fumo perché sta salendo e credi continuerà ancora a farlo assumendoti di fatto un rischio molto molto alto o vendere un token durante una normale correzione perché credi che da quel momento in poi continuerà a scendere senza considerare informazioni più storiche come ad esempio la forte salita che il token ha fatto negli ultimi giorni e che magari quella correzione sia fisiologica è normale. Inoltre questo bias può portarti a non prendere mai profitto che attenzione non è da confondere con l'avidità ma anzi è una caratteristica che si va ad aggiungere a questo. Ad esempio, e questo ragazzi è comunissimo secondo me, hai raggiunto il tuo target di portafoglio o di target di prezzo della coin che detieni ma non hai venduto e il mercato crolla. In quella situazione, quindi nella fase in cui il mercato si trova con un ribasso, ripeti a te stesso no, questa volta appena raggiungo il target esco. Magari il mercato ti dà una seconda possibilità, raggiungi nuovamente il tuo target ma nel momento in cui lo raggiungi fai nuovamente affidamento alle informazioni recenti, quindi al residency bias, ovvero che il mercato stia salendo e pensi che continuerà ancora a crescere e ancora una volta non vendi e magari poi il mercato continua ad ampare. Questo ragazzi capita moltissime volte, subentra come vi ho detto anche l'avidità ma non è soltanto quello, quindi si fa affidamento diciamo alle informazioni recenti e non allo storico. Esempio numero due, bitcoin passa da 60.000 euro a 40.000 euro una settimana e alla fine ho perso troppi soldi, non sale mai, in questo settore si perde soltanto soldi, eccetera eccetera, quando soltanto un anno fa valeva meno di 10.000 euro. Quindi il punto qual è? Cercate di fare sempre zoom out, non soffermatevi sugli eventi recenti ma sullo storico. Ad esempio in questa immagine vediamo come negli ultimi 5 anni abbiamo avuto un interesse molto molto alto e positivo, mentre negli ultimi 12 mesi abbiamo avuto un interesse diciamo leggermente negativo e quindi ci si pone la domanda devo continuare ad investirci? Questo perché si prende soltanto come riferimento gli ultimi 12 mesi, quindi un evento recente e non quello che ha fatto diciamo il tuo investimento nel settore negli scorsi 5 anni. Overconfidence bias, questo anche è molto famoso, è molto velocemente, il bias di overconfidence consiste nel sopravvalutare le nostre capacità il che ci porta a sovrastimare le probabilità che le nostre ipotesi siano corrette. Il classico oracolo della situazione in un certo senso, ad esempio un investitore che casualmente acquista un titolo che ottiene una performance superiore ad un indice di mercato come lo Standard & Poor's può convincersi addirittura di possedere delle capacità speciali invece di ritenersi solamente fortunato. Tra l'altro ragazzi, questo tipo di bias porta gli investitori a concentrare il loro portafoglio unicamente su un solo asset anche a discapito di forti perdite, cioè anche dopo aver perso magari tanti soldi comunque continueranno appunto a concentrare il loro portafoglio e a non diversificare. La chiave ragazzi per battere l'eccesso di fiducia sono solide strategie di gestione del rischio. Ragazzi, spero che fino a qui il video vi stia piacendo e che vi sia chiaramente utile. Magari iscrivetemi qualche suggerimento nei commenti per il prossimo video che farò inerente appunto a come sopravvivere al BR Market che sarà un video sicuramente molto molto utile e interessante. Andiamo avanti. Endowment effect. Questo ragazzi è famosissimo nelle crypto, vedrete che in tantissimi vi ci ritroverete. Allora, l'effetto dotazione consiste nell'attribuire un valore maggiore ai beni in tuo possesso, quindi diventi emotivamente attaccato ai tuoi asset. E già le emozioni, come ben sappiamo, sono il tuo peggior nemico negli investimenti. E questo ragazzi ci porta a non prendere mai profitto, a non valutare altri investimenti o addirittura a discriminare quelli simili. Quindi è un bias molto pericoloso e per l'appunto anche molto comune. Quindi ci si tende ad affezionare molto spesso ai propri investimenti. Ora, il consiglio qual è? Vi lascio anche un articolo dove va a spiegare questo concetto. imparate a comprendere come funziona il processo decisionale su base zero o ZBT. Il pensiero a base zero molto velocemente è un processo decisionale basato sull'immaginare te stesso al punto prima che venissero prese determinate decisioni. Quindi funziona in un certo senso come il seno del poi. Per esempio, poniti questa domanda se non possedessi questo investimento ci investirei oggi? Se la risposta è sì, allora puoi continuare a seguire la tua linea d'azione. Se la risposta invece dovesse essere no, allora devi capire cosa c'è che non va e porre rimedio. Pregiudizio di sopravvivenza. Ragazzi, questo lo adoro perché è il bias degli italiani. Allora, il pregiudizio di sopravvivenza è quell'errore logico che si commette quando per valutare una situazione si prendono in considerazione solo gli elementi persone o cose che hanno superato un determinato processo di selezione trascurando i restanti che sono solitamente la maggior parte. Ad esempio, classico esempio è l'italiana. Mio nonno beveva e fumava un pacchetto di sigarette tutti i giorni ed ha vissuto in ottima salute fino ai 90 anni. Questo è un classico bias poiché si prende come riferimento l'eccezione e non magari le altre migliaia di persone che si sono ammalate per l'eccessivo fumo o comunque per uno stile di vita non propriamente salutare e magari sono morte di cancro di tumore eccetera eccetera quindi quelle persone lì non si prendono in considerazione si prende in considerazione soltanto diciamo l'eccezione per restare in tema si sente soltanto parlare di colui che ha trasformato 8000 dollari di shiba inu in 5,7 miliardi e non si sente mai parlare delle migliaia di persone che hanno trasformato 8000 dollari in 500 questo ragazzi distorce la vostra percezione delle probabilità quindi fate molta molta attenzione il consiglio è semplicemente quello di essere consapevoli dell'esistenza di questo bias e questa immagine rappresentativa ragazzi è molto molto famosa ad esempio e dovrebbe essere anche una storia vera se non mi sbaglio ci sono questi aerei che tornano alla base e i quali sono stati colpiti in queste zone cerchiate di rosso ora se fossi in guerra e gli aerei tornati alla base avessero subito questi colpi quali aree rinforceresti così istintivamente diresti quelle che sono state colpite ma in realtà la risposta è errata le aree che dovrebbero essere rinforzate sono quelle aree invece che non sono state colpite perché se gli aerei che sono stati colpiti in queste aree sono tornati alla base perché possono supportare appunto dei colpi in quelle aree mentre quegli aerei che non sono tornati alla base probabilmente perché sono stati colpiti nelle altre aree come il motore la parte davanti o quella intermedia tra la coda quindi le aree di rinforzare sono proprio quelle lì effetto greggio ragazzi questo è molto famoso l'effetto greggio è un errato comportamento dell'investitore che tende a seguire un pensiero di gruppo sostenendosi con altre persone a effettuare decisioni sbagliate questo diciamo lo ritroviamo come tutti gli altri d'altronde nella vita in generale soprattutto nelle fake news quindi consiste nell'avere la tendenza a seguire e copiare ciò che fanno gli altri investitori questa tipologia di investitore sono in gran parte influenzati dalle emozioni e dall'istinto piuttosto che dalle loro stesse analisi ad esempio la fumo porta a questo tipo di bias quindi prima di compiere una qualsiasi azione fermati sempre dieci minuti per rifletterci e non agire mai distinto poi c'è questa immagine molto rappresentativa di queste pecore che praticamente si stanno lanciando dalla montagna e c'è questa pecora che si differenzia perché si ferma e dice aspettate un attimo aspettate un minuto c'è qualcosa di sbagliato che non va e tutte le altre dicono stai zitto idiota fai quello che ti viene detto è per il tuo il nostro bene vabbè questa immagine è carina l'errore di risultato l'errore di risultato è un errore commesso nel valutare la qualità di una decisione quando l'esito di tale decisione è già noto ad esempio immagina di andare online con AA contro JJ nel poker è perdere hai preso una grande decisione ma che ha portato ad un esito negativo perché AA aveva l'80% di possibilità di vincere in questo caso investi 10.000 dollari in una shitcoin che ora vale 100.000 dollari hai avuto un ottimo risultato ma è stata una decisione sbagliata quindi tenete sempre conto della variabilità dei casi a volte ti può andar bene a volte ti può andar male il punto è che prendendo cattive decisioni con basse probabilità nella maggior parte dei casi ti andrà male quindi cercate sempre di prendere le decisioni con chiaramente le maggiori probabilità authority bias ed eccoci appunto all'ultimo errore l'authority bias ragazzi è la nostra normale tendenza a seguire un leader non per tutti ma per la maggior parte una volta che crediamo che qualcuno sia esperto ci fidiamo di tutto ciò che dice ricordatevi che gli esperti possono sbagliare possono non essere così esperti come dicono o peggio ancora avere dei secondi fini perciò ponderate molto attentamente le persone che seguite verificate sempre le informazioni non pendete mai dalle loro labbra e non fidatevi mai di nessuno purtroppo ragazzi la gente per soldi perde anche la dignità e insomma gli esempi direi che ne possiamo fare anche fin troppi e ora cerchiamo di trarre delle conclusioni come vi dissi all'inizio alla base di come evitare di commettere questa tipologia di errori quindi errori di natura emotiva che sono indossi da delle distorsioni cognitive della nostra mente sta proprio nel conoscerli è chiaro che difficilmente possiamo riconoscerli tutti poiché sono centinaia e molti dei quali sono ancora sconosciuti o ancora peggio conoscerli tutti a memoria qualcosa di veramente molto complesso perciò quel che vi potrei consigliare di fare è crearvi una lista di tutti questi bias sicuramente più famosi più comuni attinenti da consultare ogni qualvolta che volete compiere un'operazione tra l'altro consultare con la vostra lista più e più volte vi porterà anche a conoscerli meglio a diciamo a renderli vostri in un certo senso siate consapevoli che il nostro modo di ragionare e pensare ha molti difetti ecco perché avere una solida strategia premeditata è sempre la miglior soluzione ragazzi io mi fermo qui ci sono diversi libri che potreste leggere in merito a questo a questo argomento ve li lascio giù in descrizione spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile se è così ragazzi lasciate un mi piace un commento e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti